Massimo Parodi presidente del Mele. Massimo oggi una vittoria importante che però penso che non cambi nulla per voi cioè dovete puntare penso ormai solamente al quarto posto per poter tentare i playoff. Sì noi al massimo al quarto posto se lo raggiungiamo ancora per una puntata prestigiosa contro questi forti del campionato che si sono fatti prendere dal nervosismo e sui massi in otto una partita buona perché adesso poi abbiamo mercoledì la semifinale di ritorno col campi possiamo anche andare in finale di Coppa Italia passando e campionato più o meno come dovevamo fare. Penso che ormai il vostro obiettivo sia la Coppa Liguria e i playoff se i punti distaccano solo troppo dalle seconde perché la quinta mi sa che non lo fa. Va bene ok ti ringrazio ciao Massimo alle prossime ciao